Per fortuna vi è stato un preaccordo quando riguarda la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale del lavoro e dico per fortuna poiché in questo accordo ci sono alcune dichiarazioni congiunte fatte tra sindacato e governo rispetto al valore che i lavoratori della pubblica amministrazione hanno all'interno degli ambienti di lavoro per la loro riorganizzazione vera in funzione dell'esemplificazione dei processi, la trasparenza dei processi per migliorare le condizioni dei cittadini. Erano principi che noi abbiamo sempre sostenuto, sono stati ratificati in un accordo e quindi è un accordo di programma che dovrà essere poi sottoscritto e quindi sancito all'interno dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro e noi siamo fiduciosi che si possa effettivamente cambiare a cominciare dal valore che si danno alle competenze e al merito dei lavoratori della pubblica amministrazione. Siamo anche in preparazione del quinto congresso della CIS, la funzione pubblica di Salerno, un congresso che è un congresso ponte a partire proprio dai nuovi contratti di lavoro e un congresso ponte verso una vera riforma della pubblica amministrazione che metta al centro i bisogni delle comunità di riferimento. Noi ci crediamo e ci lavoriamo affinché tutto ciò accada.